La caratteristica principale della nostra gestione rispetto a un fondo tradizionale bilanciato è che aggiustiamo i pesi in portafoglio in funzione di una variabile che è molto importante oggigiorno, che è la volatilità di mercato. Quindi in base al rischio e alla nostra apprezzazione del rischio sulle diverse classi di attivo, aggiustiamo le posizioni in portafoglio. Parte da un principio che è semplice e intuitivo, più rischio vuol dire meno esposizione, meno rischio vuol dire poter partecipare in maniera significativa a dei trend rialzisti di mercato. Questa strategia può essere adatta a diverse fasi di mercato, in quanto guardando la volatilità come indicatore fondamentale della nostra asset allocation, riusciamo nelle fasi ribassiste di mercato a reagire rapidamente, tagliando le posizioni in portafoglio e riducendo la perdita massima. Viceversa, nelle fasi rialziste di mercato, quando la volatilità normalmente scende, accompagnare pienamente questa fase di rimbalzo. Storicamente negli ultimi otto anni, quindi da quando abbiamo implementato la strategia all'interno di Parvest Diversified e dinamica, siamo riusciti a eggiare in maniera significativa le fasi di correzione del 2011 e il ritorno della volatilità del 2015 e partecipare appieno alle fasi di crescita che ci sono state nel 2012, 2014 e l'anno scorso. In primo luogo, usando il rischio come indicatore della nostra asset allocation, riusciamo ad essere disciplinati. Disciplinati cosa vuol dire? Vuol dire reagire in maniera rapida e avere una gestione flessibile in funzione dell'evoluzione delle dinamiche di rischio di mercato. Se faccio un'analogia molto semplice per spiegare come aggiustiamo le posizioni in portafoglio, potremmo utilizzare l'analogia della vela, della barca a vela e di come aggiustiamo la nostra esposizione, quindi la nostra velatura, in funzione del vento, quindi del rischio. Più il vento è forte, più il rischio è forte e più siamo obbligati, in maniera disciplinata, a ridurre linea a linea le posizioni in portafoglio che diventano le più rischiose. Viceversa, nelle fasi particolarmente favorevoli di mercato o per esempio, se consideriamo la nostra esposizione al mercato azionario americano, appena il rischio ha incominciato a ridursi nel primo trimestre del 2016, non abbiamo esitato a incrementare l'esposizione. Quindi razionalità, flessibilità, ma soprattutto intuitività nelle nostre decisioni di asset allocation.